Fa male perché stiamo facendo il nostro percorso e davamo continuità ai risultati, era un punto importante, però non so ora se il rigore ci fosse o no. Sicuramente c'era fallo prima, quello sicuro, però il rigore non so se c'era o no perché dal campo poi stavo di qua, stavo fuori, io non lo so. A prescindere da questo comunque ci prendiamo la buona partita che abbiamo fatto e pensiamo alla partita di mercoledì. Il gol è importantissimo per noi attaccanti, manca sicuramente, però i risultati ora sono importanti, sono contento di come sta andando qua a Viterbo, però spero di sbloccarmi il prima possibile. Come ho detto poco fa, dobbiamo prendere il buono che è stato fatto e secondo me oggi è stata fatta una grande partita, atteggiamento giusto, seconde palle, la voglia di non perdere i duelli. Abbiamo creato perché abbiamo creato tante occasioni contro una squadra forte che sta lì, sta lì anche perché sa fare queste partite, perché umilmente si è messa lì e ha vinto la partita con rigore, saranno stati bravi loro a creare quella situazione. Noi prendiamo il buono che è stato fatto e mercoledì per noi è una partita importantissima e da domani sicuramente penseremo a quella. No, sicuramente ero anche stanco, poi la palla è venuta, era forte, l'ho dovuta assoppare dentro, poi ce l'avevo sul destro e ho provato a fare il pallonetto. Mi dispiace perché comunque è un allenatore esperto e poi ha vinto la partita e è bravo lui, ma noi non dobbiamo pensare a queste cose, noi sappiamo di aver fatto delle cose buone, poi quando perdi per me, io sto male, sto male, anche se è stata fatta una grande partita, però purtroppo in questo mese abbiamo tante partite, non possiamo pensare al Modena, da domani è ormai andata, pensiamo a mercoledì che abbiamo una partita per noi importantissima.